Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, oggi siamo qui per parlare del nuovo Structure Deck Traptrix che se non erro dovrebbe uscire il 23 di questo mese. Oggi, insieme a voi, volevo vedere cosa contiene questo Structure e in più se conviene o meno acquistarlo. Ma prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati dal mio sponsor ovviamente, Card Game Corner. Trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. In più, col codice sconto 2023 Cappello potete ottenere il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato, che ovviamente non è soggetto ad altra offerta. Inoltre, se volete liberarvi delle vostre carte di Yu-Gi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Forza Will, Digimon... no, le lame in card di Dragon Ball non le voglio. Ne ho un sacchetto pieno di un ritiro di oggi, lasciamo sta. Trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo a vedere lo spoiler delle carte. Prima di tutto vorrei farvi notare che non c'è Max C. Peccato. Eh vabbè, tanto non l'hanno sbandito, quindi era totalmente inutile metterlo qua dentro. Diciamo che l'hanno sostituito con Retailing C. E dov'è? Ecco, Ash. Che? Nel senso. C'ha senso? Assolutamente no. Ma partiamo adesso dalla prima carta, poi ci sarà tempo per parlare anche di tutte le altre. Allora abbiamo Trap Tricks Pudica, che questa se non sbaglio dovrebbe essere Ultra. Che non è male come carta perché se viene evocata Normal mi sarcia la terreno. Che è fortissima perché mi dà una Normal addizionale ma l'andremo a vedere dopo. In più se viene evocata Special, se non erro, banna. Eh sì. Sì, banna un mostro. E non è assolutamente male. Diciamo che un bel playset di questa sarebbe top da giocare. Poi vabbè, abbiamo Arachona Kampa. Questa praticamente è una sorta di Cyber Drago. Mettiamola così. Se controllo un Trap Tricks mi entra Special. L'unica cosa è che se non erro questa mi locca in insetto. Sì, posso evocare specialmente all'extra solo mostro tipo insetto. Perché l'ho testata. È una merda. Perché volevo tirare Exiton per ribaltare la partita. Niente, Exiton è demone e quindi è un po' una merda. Inoltre c'è un altro effetto. Vabbè, totalmente inutile. A parte il fatto che, vabbè, è immune alle carte buco ma tutte le Trap Tricks sono così. Mi dice che la prima volta che una carta Magia e Trap la posizionata sta per essere distrutta invece non viene distrutta. Ma nel senso ci fai poco perché comunque questa la exizzi se ti entra in campo o la linki. Poi vabbè, abbiamo la reprint delle vecchie Trap Tricks. Abbiamo, vabbè, Atrax, Mirmeleo, Nefentes. Vabbè, poi queste sono totalmente inutili. A parte ovviamente Mirmeleo. Dionea, molto forte. Poi abbiamo Genlisea, Vesciculo, che questa si gioca. Poi abbiamo la reprint di due Kaiju, che sono Gadarla, che non è male. E Kumungus. Anche questo ben accetto. Sarebbe stato carino reprintassero Gamesel, però vabbè, continuiamo a farlo costare dall'euro ai due. Poi abbiamo Retailing Sea, carta che sostituisce a questo punto Max C. Vabbè, da recuperare ma non so quanto che serve. Poi Ristoratore di Insetti, vabbè, inutile. Ah, ovviamente mi sono dimenticato una cosa. Arachomka e Locca, sia per pianta che per insetto, non solo per insetto. Altrimenti non ci aveva senso. Poi abbiamo, vabbè, Dente di Leone, carta inutile nel mazzo. Poi abbiamo, vabbè, Ash, che scusatemi, non la reprintate per tipo tre anni e poi la mettete nei Teen, nello Structure Deck Besse Cristallo. E adesso di nuovo in questa. Cioè, a questo punto, non lo so, mettete c'è un'altra. Un'altra anche Bell, sta lì dentro. Che cazzo ci puoi mettere? Beh, Shifter, che sicuramente c'ha molto più senso. Ah no, aspetta. Che palle ho! Hanno ripentato tutto in quello cazzo di Structure. Quale ci potevi mettere? Ci mettevi veramente Gamisiel? E era molto più carino, visto che tanto ci avevi messo anche Gadarla e Comungus. Poi abbiamo Rose Lover, Saggio dei Fiori, roba Mac Knight, non capisco perché. Va bene, però. Poi vabbè, Moral Touch, le mani, mano di ghiaccio e mano di fuoco e la mano di tuono. Probabilmente stanno strizzando l'occhio al formato Hat. Chi lo sa che Konami non voglia spingere in quella direzione, dopo il formato Gottheid Edison. Poi abbiamo la Terreno, che questa è una carta veramente forte, perché in primis mi dà una Normal addizionale e diciamo che questo mazzo funzionando di Normal è tantissima roba. In più, ogni mostro pianta, insetto che stanno per essere distrutti, ovviamente la prima volta di ciascuno, e non vengono distrutti. E, come secondo effetto, posso bandare un mostro che controllo ed evocare specialmente un Trap Tricks dalla mano o cimitero. Quindi praticamente ti ritiri su lei o mirmele o pratico fai buchi. Poi, poi, abbiamo anche quest'altra carta che è illegale. Praticamente posso scartare un livello 4 pianta insetto o una carta trappola normale e pescare due carte. Così, va bene. Inoltre posso bandare questa carta dal cimitero e targhettare una carta bandita di livello 4 insetto pianta o una carta trappola normale bandita. Posizionalo in fondo al deck. Boh, nel senso non mi dà vantaggio, quindi c'ha poco senso. Se me faceva pure pesca, ok, altrimenti... Ma, così no. Poi abbiamo finalmente una reprint di Ray Jacky e di Spolverino che praticamente non le vedevamo da se non ero gli structure deck di Obelisk e Slifer, quindi praticamente un anno e mezzo fa. e mi sembra ottima come cosa. Poi abbiamo come reparto trappole la Terry Fly tra Paul che non è malvagia. Se il tuo avversario vuole specialmente un mostro in questo turno, seleziona un mostro che lui controlla con 2000 o più d'attacco e distruggilo. Se hai una carta normale buco nel tuo cimitero puoi bandire un mostro dal cimitero all'avversario. Quindi, top. Inoltre, se ho una carta normale buco nel mio cimitero posso bandire un mostro nel cimitero avversario. Carina, non è male. Io attualmente la sto testando ad uno per. Poi abbiamo buco trappola bottomless trap hole void trap hole il nightmare anche questo lo sto testando in mono poi abbiamo il float gate quello che setta il grave digger che vabbè è immensa. Poi abbiamo trap tricks la trappola di phantom knight poi abbiamo sanctum che anche questa non è male considerando che le ultime stampe sono abbastanza vecchiote se non sbaglio sono secret e tipo stanno sulla decina l'uno che non è poco. Poi abbiamo questa carta di merda che fino a quattro mesi fa che è stata reprintata negli OTS stava tipo a tre euro poi Evelyn Match che ok va bene diciamo che ci sta soprattutto perché era stata stampata all'interno di Mama il problema è che era già salita tantissimo di prezzo considerate che più o meno stavamo sul primo playset 17 CAD quindi per quanto non sia d'accordo ci sta cioè nel senso non sia d'accordo in quanto è stata reprintata da poco più che altro adesso spero in una reprinta anche di TTT all'interno del set nuovo che esce a marzo Maze of Memories perché anche quello primo playset inizia a costare 20 CAD per una carta che è stata reprintata adesso è veramente tanto soprattutto perché ne escono abbastanza per quanto riguarda invece il resto abbiamo vabbè la roba di Extra e due carte Traptrix qua abbiamo la Mantis che è una reprint e la trappola Huletahea che praticamente è una Traptrix trappola ma come cioè nel pratico è la trappola di PK ma Traptrix però la cosa positiva è che puoi bandare questa carta dal cimitero e selezionare un Traptrix nel cimitero e lo evoco specialmente inoltre posso attivare questa carta nel turno in cui è settata scartando una carta Trappola normale diciamo che è un modo per partire nel caso più brutto io parta senza niente cioè non c'ho la Mirmelèo non c'ho Dionea non c'ho niente scarto Trappola entra lei Linco e faccio Sera poi per il resto abbiamo Rafflesia che ci sta vabbè io giocherò la mia bellissima da Bosch se non ricordo male poi abbiamo la reprint di Allomerus stessa cosa di Cularia abbiamo questa che è la nuova che è la Pinguicula che praticamente stacco Sercio se non ricordo male inoltre se un mostro che l'avversario controlla è mandato al cimitero bandito dalle fette di una carta posso attaccare quel mostro come materiale a questa carta quindi molto forte ha ovviamente lei come anche Sera e gli altri Link e Xyz non so se tutti però sono immuni dagli effetti delle trappole inoltre questa è immune dagli effetti attivati dai mostri che hanno lo stesso tipo del mostro che si trova come materiale a questa carta quindi prendendo un mostro all'avversario come materiale è probabile che si protegga dagli effetti delle carte dell'avversario poi come ultimo supporto abbiamo Atipus che nel senso mi piace a un certo punto perché è un Link 3 come effetto dice che i mostri traptrix che controllo guadagnano mille punti d'attacco mentre controllo una carta trappola normale al cimitero cosa positiva soprattutto perché i traptrix non hanno un attacco molto elevato inoltre posso targettare tante carte che l'avversario controlla pari al numero di mostri in sette o pianta che controllo nega i loro effetti fino alla fine del turno poi posso bandire una carta trappola dal mio cimitero e se lo faccio distruggo una carta che ho targettato carina però è sempre un Link 3 fosse stato 2 sarebbe stata veramente buona più che altro perché faceva da Dark Ruler senza obbligarmi a non poter infliggere danni e in più spaccavo cioè me la separati proprio come effetti faccio 1 nego e poi spacco e per concludere abbiamo Sera che vabbè fortissima motore del mazzo se me la levano smetto di giocare ci sta la reprint qua anzi sono contento che hanno reprintato tutto l'archetipo all'interno dello structure il problema secondo me c'è il problema fino a un certo punto non capisco perché l'hanno dovuto reprintare in mama a questo punto gli avrei infilato qualcos'altro tutto qua nel complesso che dirvi alla fine secondo me questo structure ci sta non manca niente e quindi già da solo potete avere un mazzo competitivo no però un mazzo che nel pratico funziona è un T2 ovviamente un buon rogue come lo volete chiamare è un mazzo buono nel pratico perché io giocherò questo e ve lo montate ovviamente senza spendere migliaia di euro questo con tre structure è fatto praticamente cioè spendete 25 euro più 6 di spedizione lo trovate sul sito di magic corner l'unica cosa che però sarà da recuperare ovviamente non adesso ma quando uscirà la prossima espansione cyberstorm access è questa cazzo di carta che nel pratico è un palo in culo nel senso cioè nel pratico da questo mazzo una roba come un busto del 3000% cioè parlamoci chiaro senza girarci intorno questa ti fa pescare due ogni draw phase ti fa una normal addizionale quindi nel pratico se c'è la terrenica e questa tu parti di tripla normal ogni turno cioè di che stiamo a parlare ovviamente se giocate questa non potete attivare effetti da carte dalla mano quindi nel pratico o giocate le hand trap o giocate questa non c'è santo che tenga nel senso preferisci shifter e essere un cancro giochi shifter preferisci giocare una carta di merda che ti fa doppia normal e pesca 2 giochi questo ah ovviamente vi ho detto che il mazzo ve lo montate con 3 structure poi ovviamente dovete recuperare qualcosina di extra tipo non lo so eh zeus exiton dweller babusca cioè dopo valutate voi quali carte recuperare perché diciamo le opzioni sono tante cioè cerbero fenix access code unicorn dopo su quello valutate voi però già con 3 structure vi montate un mazzetto carino che ovviamente a un local vi sfondano se c'è gente che gioca competitivo se invece lo portate con la roba di extra buona diciamo che il local ve lo potete anche vincere anche con con sto palo in culo potrebbe essere che andate anche un pochino più avanti poi beccate il meta giocato da una persona veramente forte lì prenderete un cazzo che ve posso dire detto questo ragazzi voi ragazzi vi piace la mia tazza col drago bianco chi blu alternativo mi sento veramente tanto show in questo momento detto questo ragazzi state me easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti